Il WWF dice no alla realizzazione di un nuovo piazzale per il deposito di combustibile solido secondario derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi all'esterno dell'impianto di trattamento meccanico-biologico da tempo in funzione incontrata a Casoni e a Chieti. La presidente del WWF Chieti-Pescara, Nicoletta Di Francesco, spiega i motivi della contrarietà dell'Associazione Ambientalista al progetto presentato da Beco S.p.a. che è la società controllata da Acea S.p.a. Diciamo no per un semplice motivo perché c'è già un piazzale in cui vengono depositate le goballe e il cosiddetto CSS, combustibile solido secondario prodotto dal trattamento meccanico-biologico di Casoni. Questo non capiamo perché debba essere ampliato o aggiunto un altro piazzale quando stiamo di fronte a un piano di riduzione dei rifiuti sia a livello nazionale che locale. Si è svolta nei giorni scorsi una conferenza di servizi. Sappiamo che avete partecipato. Cosa è emerso? Sì, abbiamo partecipato con l'avvocato Francesco Paolo Febbo. Noi solo come uditori purtroppo abbiamo potuto dire poco. C'è stata una presa di posizione da parte del dirigente del Comune di Chieti ma noi sappiamo che i dirigenti a livello amministrativo loro devono tenere conto delle posizioni degli organi decisori, degli organi elettivi che sono il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco. Quindi che loro d'altronde esprimono un proprio parere, una propria decisione e il dirigente deve adeguarsi a queste decisioni.